un altro grosso problema sono gli insetti adesso siamo a fine settembre stanno calando sono ancora parecchie mosche magari i tafani non ce ne sono molti però abbiamo avuto periodi tipo luglio agosto dove rappresentavano un problema non indifferente parlando di appennino in particolare settentrionale se siamo al di sotto di quote di 1700 1600 metri dobbiamo convivere con gli insetti ematofagi che tafani mosche di diverse varietà e specie in questo caso siamo a 1300 metri di quota circa e il problema d'estate nei momenti in cui a umidità alta e assenza di vento il problema è molto sentito questi qui in questo in questa parcella in questo campo non abbiamo non abbiamo conifere che ombreggiano veramente tanto sotto di loro ma abbiamo faggi che però soprattutto quando c'è un insieme di faggi non l'albero singolo creano una zona piuttosto scura dove la luce penetra molto meno ed è proprio lì dove gli animali trovano riparo soprattutto dai tafani che rifugono molto il buio quindi l'albero ci dà protezione sia dagli agenti atmosferici che dagli insetti ricordiamo però che andare al pascolo significa comunque avere sempre a che fare con gli insetti mosche o tafani che siano quindi l'animale va addestrato fin da vitella ad avere un contatto con loro e sarà così possibile per l'animale sopportare la presenza degli insetti anche nei pascoli estivi negli anni successivi la strada diciamo a lungo termine per affrontare il problema insetti è ancora una volta quella genetica dove possiamo selezionare attraverso l'osservazione gli animali che da un lato hanno l'ignorano ignorano gli insetti ma abbiamo anche animali su cui gli insetti vanno meno e questo è un po' anche una cartina al tornasole della salute stessa dell'animale perché anche l'insetto è un indicatore in un qualche modo e allora andando a considerare sul lato femminile gli animali che sopportano meglio gestiscono meglio questo stress attraverso la produzione di un figlio maschio che poi andrà a lavorare in mandria e possiamo quindi selezionare anche questo aspetto sul breve termine un occhio sempre sul singolo animale sul aiutarlo dove l'animale ne ha bisogno magari anche con dei prodotti dei repellenti naturali che però ci richiedono un intervento costante e animali che si lasciano mettere le mani addosso e però in lungo termine credo sia imprescindibile ma da un punto di vista dell'animale per loro stessi perché seppur inconsapevolmente noi che però riusciamo a capirlo produrre un animale meno sensibile vorrà dire anche un animale che vive meglio e sta meglio